Non potevano dedicare un intervento ad una pubblicazione periodica come questa rivista che vale la pena acquistare ogni mese. Rizza nasce nel 1980 quando Raffaele Morelli assieme ad altri medici e psicologi fonda l'istituto Rizza di medicina psicosomatica, un centro di ricerca e studio concepito per divulgare contenuti su psicosomatica e salute. Il gruppo di studiosi di Rizza realizza i contenuti che vengono pubblicati sulla rivista e i libri delle edizioni Rizza con uno stile innovativo e soprattutto altamente divulgativo, tanto da rendere Rizza psicosomatica in questi anni un punto di riferimento nei temi della psicologia, della salute naturale, dell'alimentazione e del dimagrimento.